Ministra Bellanova, grazie di essere con noi in una giornata particolarmente complicata, avete un Consiglio dei Ministri, avete da leggere, 179 pagine e tant'è il recovery plan? Allora, ieri è arrivato alle 21.30, oggi alle 21.30 avete l'altro Consiglio dei Ministri, una cosa di giorno non la fate mai voi? Mai. Mai. In notturna, il Presidente del Consiglio ama andare in notturna. Io spero che lei non abbia un problema di metabolismo, che la sera è bella... Io sono allenata, diciamo, e i tavoli di trattativa, i tavoli di crisi mi hanno allenata molto su questo, quindi... Oggi è la regola del giorno, diciamo la verità, ho fatto due interviste sul Corriere e sul Foglio, molto interessanti, è la persona che stasera, secondo quello che ho capito, recovery o non recovery, dovrebbe dimettersi, io così ho capito, adesso mi spiega bene lei, tra l'altro è arrivata una news di Renzi, cara Bellanova, che dice ci vuole coraggio per stare con l'Italia Viva, e lei tutto le si può dire, tranne che non abbia coraggio, obiettivamente, anzi è un po' piantagrane, dicono in giro. Piantagrane? Beh, andiamo con ordine. Il 7 di dicembre volevano approvare il recovery, avevano già un emendamento da presentare nella legge di bilancio per quanto riguarda la governance, siamo al 12 di gennaio, quel piano è stato praticamente riscritto e dovrebbero ringraziarci per aver posto problemi seri, non per aver piantato grane, dovrebbero ringraziarci perché le cose che abbiamo dette oggi sono condivise da tutti, quelli che in questo mese hanno continuato a dire bisogna fare presto, bisogna decidere, ecco noi eravamo pronti già allora. Ha ragione, su questo tanti vi danno atto di questo, devo dirlo, ieri abbiamo avuto interlocutori anche non teneri, con Renzi e con l'Italia Viva, che hanno detto hanno portato a cale risultati molto importanti, a questo punto quindi lo votate, e Conte vi ringrazia perché avete fatto delle modifiche buone, perché accanirsi contro Conte ci si chiede? Ma più che ci ringrazia veramente dalle agenzie che vedo, Conte lancia messaggi come dire di grande pesantezza, allora io per senso istituzionale andrò in Consiglio dei Ministri, continuerò a fare la mia parte... In effetti ha ragione, mi scusi perché l'ultima dichiarazione di Conte è se Renzi si sfila, impossibile per Conte un nuovo governo con l'Italia Viva, non è una dichiarazione di Conte, mi scuso, ma è quanto trapela da fonti di Palazzo Chi, il Conte dice se ve ne andate lei e Labbonetti stasera dopo aver votato il recovery, un nuovo governo non potrà includervi, non si può pensare dopo la crisi ancora a un governo con l'Italia Viva avendo rimescolato le carte, questa è una cosa molto precisa che vi sta dicendo Conte, è un out-out? È un out-out e con quale autorevolezza e con quale forza si lancia questo out-out? Perché io potrei rispondere nella mia vita non ho temuto le spade e non temo i foderi, voglio invece stare al merito e dire Conte ha già un'altra maggioranza con la quale puoi far marciare in Parlamento le azioni di governo o si vuole mettere a discutere e confrontarsi e se ha la capacità di avere i numeri rimettere in piedi una coalizione di governo? Ma lei lo ha questo sospetto, mi scusi Ministro, lo ha questo sospetto lei che abbia già un'altra maggioranza? Ma io non vado avanti, come ho già detto io non seguo i retrosceni e non alimento sospetti, dico soltanto che noi per senso istituzionale oggi andremo, andremo in Consiglio dei Ministri e daremo il nostro voto sul recovery perché noi non abbiamo mai voluto tenere in ostaggio, chi sta tenendo in ostaggio il Paese e non sta affrontando i problemi non sta sicuramente in Italia viva. Scusi, per capire meglio io mi perdono, però non sono avanti, oggi cosa fate? Votate sì al recovery? Stiamo completando la lettura, sicuramente noi non bloccheremo questo percorso, lavoreremo anche in Consiglio dei Ministri per cercare di migliorarlo perché ci sono dei punti che sono ancora assolutamente insufficienti e inadeguati, poi siamo impegnati a fare la battaglia in Parlamento e gli eventi diranno se la faremo dalla maggioranza o se la senatrice dell'opposizione continuerà a portare avanti la battaglia su quei punti che continua a considerare non adeguati. Stasera non mettete i bastoni tra le ruote perché il recovery è troppo importante, anche Mattarella su questo mi pare che si è esposto molto a chiedere che si vada avanti i spediti, però le altre questioni rimangono tutte sul tavolo al punto da poter provocare le dimissioni sue dell'abbonente, il famoso mess che Renzi continua a chiedere a gran voce e che oggi tra l'altro è stato addirittura, anzi ieri sera è anche uscito fuori il nuovo piano pandemico ed è venuto fuori che in effetti addirittura se mancano le risorse potremmo dover scegliere chi curare e Renzi ha fatto un tweet molto chiaro ed esplicativo dicendo ho un'idea, per non dover scegliere chi curare prendiamo il messo, per dire quanto sta diventando centrale questo elemento del messo nel dibattito, le posso dire dal mio piccolissimo osservatorio Ministro che prima Torinelli e poi Gianrusso hanno fatto fuoco e fiamme contro il messo, quindi mi pare che i 5 Stelle sul mess continuano a considerarlo un no definitivo quello al messo, quindi questa questione qui è una questione che secondo molti viene posta un po' per rompere, perché sul mess non ci sono le condizioni, anche Conte dice ma se non abbiamo i voti in Parlamento ma perché parliamo di mess? E sul resto Conte ce li ha i voti in Parlamento? Questo è il punto. Allora un leader costruisce le condizioni per avere i voti su proposte che devono essere proposte di mediazione. Siccome io voglio andare molto nel merito e stare alla concretezza, è stato presentato non da Teresa Bellanova, è stato presentato il piano pandemico. Nel piano pandemico si dice che di fronte all'emergenza bisognerà scegliere i criteri per l'accesso alle terapie. Ora questo purtroppo è accaduto nel nostro Paese, ma a marzo ci siamo trovati precipitati di fronte a questa situazione del Covid che non avevamo messo in conto e quindi i medici sono stati costretti spesso a sostituirsi al nostro Signore su chi doveva avere diritto o meno alle cure e quindi alla vita. Ora ci viene detto in un piano pandemico che è stato presentato ieri che in base alla scarsità di risorse i trattamenti necessari saranno dati a chi può trarne maggiore beneficio. Tradotto significa gli anziani avranno meno diritto di avere l'accesso alle cure sanitarie perché hanno una minore aspettativa di vita, le persone fragili, i portatori di handicap, quelle persone che hanno difficoltà e che dovrebbero avere un maggiore diritto ad accedere alle cure sanitarie? Allora, di fronte a questo è il momento di mettere in discussione questo no ideologico ad accedere al MES e dire ci sono 37 miliardi che possiamo utilizzare per fortificare il nostro sistema. Mi scusi, lei porrà questo tema stasera in Cozzio del Ministro e dirà per noi il MES è una sine qua non? Ma questo è un tema che abbiamo posto da mesi e questo è un tema che atteneva anche ad altre forze politiche di maggioranza. È possibile che per salvaguardare lo status quo non si affronta una situazione che tutti e tanti considerano. Cioè perché Zingaretti non fa la battaglia sul MES si sta chiedendo? Ma questo è un tema che dobbiamo fare tutti perché io penso che tutti noi che abbiamo l'onere e l'onore di poter scegliere di fronte a un anziano, io non ho più i genitori, ma di fronte a un genitore che uno dice non puoi accedere alla salute perché per una questione ideologica non hanno preso le risorse che pure erano disponibili. Ma non si prova un senso di sgomento e subito dopo se hai la necessità di dover decidere anche un senso di vergogna. Quindi mi perdoni, lei è stupita del fatto che il PD non faccia questa battaglia al vostro fianco in questo momento e in ogni caso senza MES non ci può essere Italia Viva al governo, ho capito bene? Io voglio essere fiduciosa che di fronte a quello che scrivono i tecnici, insisto, non Matteo Renzi né Italia Viva, che se c'è una scarsità di risorse noi dobbiamo decidere chi vive e chi muore e mettere i medici, la classe medica, la classe ospedaliere nella condizione di doversi sostituire a chi decidere chi deve vivere e chi non deve vivere. Di fronte a questo io voglio sperare che ci sia una resipiscenza e che si porti davvero una discussione di merito sulle risorse del mese. Lei ha detto una cosa che non fa una piega, però le leggo un'altra cosa che non fa una piega perché purtroppo siamo in un momento di grandi contraddizioni. Zingaretti dice, sto leggendo adesso l'agenzia, se Italia Viva ritirà le ministri, l'evoluzione sarà una valutazione che farà il Premier Conte con il Presidente Mattarella. Spero che ci si renda conto che così si entra in un tunnel di cui nessuno conosce l'uscita. Se il vaso si rompe, i cocci non si rimettono insieme. Cioè vi sta dicendo, ok, avete dei differenti, pensate che sta facendo, però guardiamo i cocci dopo. Ma i temi di merito sono i temi che ci hanno unito in questa fase. I temi che abbiamo posto noi sul recovery, se è stato riscritto ed è condiviso, vuol dire che erano temi veri. Sul MES avevamo posizioni condivise, tutti abbiamo detto, noi, il PD, l'EU dicevano che le risorse del MES erano utili. Ho sentito dire anche al Ministro Speranza che sarebbero state utili. Noi non ci appiattiamo su una posizione ideologica e diciamo si lavori su questo. Allora andare avanti con queste minacce, io credo che non aiuta nessuno a fare un passo avanti. Bisogna adesso prendere atto che una fase è chiusa e bisogna capire se si vuole dare un percorso di riscrittura di un programma che è quello che si stava tentando di fare perché Zingaretti insieme a Matteo Renzi, a Crimi e a Speranza hanno partecipato nei mesi scorsi dopo aver richiesto insieme a noi la necessità di avere una ripartenza dell'azione di governo e hanno partecipato ad un incontro con Conte dove l'impegno era quello di scrivere un nuovo programma. Quell'accordo doveva essere completato entro novembre, dopodiché il Premier ha deciso che teneva altro da fare. Scusi per capirci, Bellanova, mi guardi negli occhi. E allora, con Italia Viva o senza Italia Viva, su che cosa si vuole portare avanti l'azione di governo? Chiara, perché è importante, si può riscrivere il terzo accordo di governo sempre con Conte? Conte ha fatto il contratto con la Lega, adesso con voi ha fatto un patto e adesso lei mi sta dicendo che bisogna scrivere un altro contratto. Secondo voi si può fare questo terzo passaggio sempre con Conte e Premier? Sì o no? Questa è un'altra domanda a serie. Intanto bisogna rimettere in pista un confronto di merito sulle questioni che deve fare il governo. Noi non abbiamo posto un problema o Conte o niente. È Conte che sta tenendo in ostaggio la sua maggioranza e il paese. Prima si scrive il programma e poi si capisce chi è il Premier? Ma si scrive il programma, si trova un'intesa sulle cose da fare, si incomincia a lavorare, si è perso tempo, altro che facciamo in fretta. Si è perso tempo. Il governo è arrivato al punto che per decidere se la scuola deve aprire il 7 di gennaio o deve aprire l'11 di gennaio fa un Consiglio dei Ministri di 4 ore nella notte tra il 4 e il 5 di gennaio. Ma lo ricordo. Ma lo racconta un attimo perché l'azione è stata messa in minoranza. Allora questa non è la misura che si arriva al Capolinia. Alla fine le scuole non hanno riaperto. Quindi aspetta un momento, pubblicità e mi racconta questa storia che è importante per tutti noi. Scusi Bellanova, le voglio chiedere una cosa perché sono ora molto difficili dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista della realtà. Per esempio mi dicevano adesso i miei autori che domani c'era un decreto legge sulla proroga dello stato di emergenza che se no scadrebbe il 31 gennaio. Voi lo votate perché abbiamo delle cose molto urgenti da fare. Per adesso il Consiglio dei Ministri che è stato convocato è quello per il Covid. Se stasera ci saranno altri punti all'ordine del giorno assumeremo la nostra responsabilità sulle questioni che condividiamo come abbiamo fatto lealmente in questo anno. Perché molti ci tengono a darci l'etichetta di chi ha posto problemi e direi meno male che abbiamo posto problemi perché abbiamo aiutato tutti a fare meglio. Quindi scusi non ha la valigia pronta sotto la scrivania lei in questo momento? Guardi, glielo dico con molta franchezza. Io vado in Consiglio dei Ministri a fare il mio dovere istituzionale per mettere al riparo da convinti europeisti quali siamo le risorse europee. sono convinta della battaglia che ho fatto perché non sono state tirate per i capelli. Ho fatto una battaglia che condividevo. Non sono una persona per la mia storia personale, per il mio modo di essere. Non sono una persona che è abituata a tirare a campare. Se ci saranno le condizioni, se Conte ascolterà quella parte dei colleghi che lo invitano a ragionare, seppure non lo dicono pubblicamente, ma tanti lo consigliano privatamente di mettersi a lavorare seriamente e adempiere al suo dovere di costruttore del programma della coalizione, e allora noi ci siamo. Se lei mi dice che noi ci esponiamo, ma sono tanti nel governo a pensarla con noi, allora io non ho bisogno di stare in questa postazione perché il galleggiamento non è quello che serve, non a me, alla mia forza politica. Il galleggiamento non serve ed è dannoso a questo Paese. Ok, quindi se Conte ascolta voi ci siete, se no no, contando sul fatto, se ho capito bene, che voi vi siete molto esposti, ma che c'è molto malessere anche tra i suoi colleghi di governo, ho capito bene? Noi ci siamo esposti, ma ci siamo esposti perché si vuole fare questo racconto perché viene più comodo per tutti, che abbiamo chiesto postazioni, che abbiamo fatto guerriglia per avere più potere. Abbiamo semplicemente posto questioni che devono essere risolte perché con il galleggiamento, con l'immobilismo, non si governa un Paese importante come l'Italia. Allora, grazie Ministra. Questo Paese non può avere solo DPCM e decreti legge di emergenza. Questo Paese ha bisogno di intravedere il futuro e su questo noi vogliamo continuare a dare il nostro contributo dalla postazione in cui ci sarà utile farlo. Sicuramente non sarà per tenere una sedia e non essere assolutamente utili a risolvere le questioni che riguardano i cittadini e le cittadini italiane. Devo uscire di corso in ritardo, chiedovenne al telegiornale, la ringrazio, sera vediamo che succede e poi ci sentiamo nei prossimi giorni con lei, ovviamente, è bella nova. Un piacere. A Boccalupo, a tutti noi peraltro in Boccalupo. In Belupo. A Boccalupo.